Oh che bella signora, salve signora! Buonasera! Salve, siamo di Sanremo Caffè, è una trasmissione su YouTube, vede YouTube? No, non vedo niente, va bene. No, ma non lo vede qua? Ah, no, in televisione non la vedo. Ah, ma YouTube lo vede? No, cos'è YouTube? YouTube è su internet. Ah, su internet, no, no, io non vado su internet. No, ma ci siamo ancora internazionalizzati. Internazionalizzati. Chiediamo, scusi signora, salve, siamo di Sanremo Caffè, possiamo disturbarlo un secondo? Salve, le è piaciuta il Palafiori? Sì, siamo andati a sentire le canzoni. Senta, ci segui su YouTube? No, YouTube no. No? No. Su internet? Non sono tanto una che va su internet. Senta, ha presente la canzone che è la nostra sigla, quella di Riccardo del Turco che ha cantato Malika ieri? Cosa hai messo nel caffè? Canta un pezzettino? Ah, cosa hai messo nel caffè? Che ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Grazie signora, arrivederci. Siamo qua, di nuovo a casa Sanremo. Salve, le è piaciuta la fiera? Bellissima. Di Sanremo posso chiederle due cose? Siamo di una trasmissione su YouTube. Anche tre. Vede YouTube? No. Su internet? Ah, io non lo vedo. Senta, niente, è qui di Sanremo o è di Passaggio? No, di Sanremo. È di Sanremo. Ha seguito un po' il festival, le è piaciuto? Bellissimo. E siete insieme? Sì, sì. Salve, è piacere. Salve. Niente, che cosa ci può dire del festival? Le è piaciuto? Spera che qualcuno vinca? Sì, è bellissimo. Ha qualche preferenza sui cantanti? No, sono tutte brave. Ah, ho capito. Lei ha qualche preferenza? C'è qualcuno che le piace di più, di meno? Qualche ospite che le è piaciuto di più? Mengoni come cantante. C'era Maria e l'Italiana. Ho capito. Va bene. Sì, va bene. Senti, ci fate un saluto a Sanremo Caffè? Vi salutate? Tanti saluti a tutti quanti. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Sanremo Caffè. Grazie.